I miei nazioni devono essere tipo 100 persone che si raccontano tu, altrimenti no, hai taggato troppe persone? Perché ad alcuni no, a te è arrivata, a lei no per esempio, a lei no, a lei no, a lei no, all'Anna no, non mi ricordo, ma che cosa era? Mauro Natale, la cartolina di...